al progetto art school questo esercizio di narrazione si chiama cambio di eventi ci aiuta a migliorare il linguaggio a sviluppare la fantasia e la creatività come si svolge l'esercizio allora ci si dispone in cerchio inizia l'insegnante a raccontare una storia e può iniziare in questo modo mario era scomparso da 15 minuti quindi ho deciso di andare a cercarlo sfortunatamente la persona accanto deve continuare deve continuare la storia e finire la frase con per fortuna la persona seguente continua e finisce la frase con purtroppo e così via finché l'operatore decide che ci sono stati abbastanza cambiamenti di scena i percorsi però possono essere molteplici e svariati sta a voi e alla vostra fantasia buon divertimento e continuate a seguirci su art school punto e e poi e Grazie a tutti.